Il re delle lucertole tiranne Che bestione! Oh, Fico! Cos'hai lì? Queste carte dei supereroi erano famose, credo. Se non erro, piacevano anche a Sara. O erano quelle sugli esseri mistrali? Forza! Ok, brutte notizie. Qui la porta è bloccata. Beh, vedi se trovi un altro ingresso. Io faccio il giro all'esterno. Ok, sta attento. Sta attento tu. Dinosauri dappertutto! È troppo buio qui. Oh, merda. No, vieni fuori. Allora... No, vieni fuori. Vieni fuori. Vieni fuori. Grazie per la visione!